PlayHospital è il progetto che tutti sognano e che l'Eucepia, grazie alla collaborazione con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù e alla catena di negozi Flying Tiger Copenhagen è stata in grado di trasformare in realtà. Il vostro aiuto è ancora più prezioso, continuate a supportarci come avete fatto fino ad oggi, a far crescere i PlayHospital. La prima cosa che può tenerci a galla è che i nostri figli ancora sorridere, ancora giocare, ancora riuscire a trovare un loro mondo anche all'interno delle mura dell'ospedale. Grazie a Olga, grazie a Lucevia, grazie all'ospedale Bambino Gesù per averci dato questa opportunità. sapere che tanti bambini con i nostri prodotti Flying Tiger Copenhagen, con il pomo, con tanti pennarelli, possono divertire, possono passare un momento di distrazione e di allegria. In questo luogo, in questo posto così difficile, noi di Flying Tiger Copenhagen ci riempie di orgoglio e di soddisfazione. Grazie infinite per questa iniziativa che è stata preziosissima e apprezzata dai nostri bambini che quotidianamente ricevono questo regalino e che comunque li fa intrattenere per il tempo che devono restare qui da noi in The Hospital durante l'attesa della visita. Da oggi, per un anno, il The Hospital del Dipartimento Oncomatologia sarà sempre provvisto di giocattoli, un flusso continuo di pennarelli, pennelli, cerotti lattici a tema, puzzle, insomma tutto materiale ludico destinato ai circa 120 bambini che affollano quotidianamente il The Hospital. Il grazie più grande va a tutti coloro che in questi mesi ci hanno donato affetto e vicinanza. Se prima le uceria per crescere aveva bisogno delle vostre donazioni, adesso con The Hospital non possiamo proprio fare più o meno di voi.